Le parole sull'Atalanta di Andrea Agnelli sono troppo facili da contraddire, tanto è chiaro l'errore commesso nel comunicare, mi asterrei. Vorrei però entrare più nell'aspetto come dire tecnico della vicenda. Agnelli dice che per entrare in Champions è giusto avere una storia alle spalle, non può bastare il risultato di una sola stagione come è toccato appunto all'Atalanta. Può darsi sia corretto, ma questo genera una domanda. Quando inizia la storia di una squadra? Dovrà esserci un momento in cui si sostanzia il merito a un premio, si taglia un traguardo oltre il quale qualcosa comincia. L'Atalanta forse l'ha passato già un anno fa, senza lusso, solo approfittando del libero mercato. Nessuno può sapere se sia solo l'inizio, magari è già la nuova Juve. La storia cambia, Presidente. Cambia continuamente per tutti. È fatta di grandi, ma anche piccolissime cose. E gli investimenti di chiunque sono per definizione sempre un rischio. Altrimenti Rabiot sarebbe un grande affare e Dybala giocherebbe in Inghilterra.